musica bene salve ragazzi qui homex e benvenuti quest'altra puntata di pillole gli archicad in pillole archicad nella sua versione 19 come spesso io ripeto che è l'ultima rilasciata dal team graphisoft bene abbiamo visto come creare una colonna adesso creare una trave non è nulla di più semplice ovviamente se io creo adesso una trave sarebbe il comando BIM in inglese trave ovviamente in italiano se la selezione faccio doppio click su questo comando io vedrò che la mia trave partirà da 3 metri e 05 e scenderà di 23 cm quindi dobbiamo fare in modo che i due pilastri siano alti 3 e 05 in questo caso i nostri pilastri sono 9 cm pochino facciamoli 30 30 giustamente ok e adesso andiamo a creare una trave basta scegliere il metodo di posizione adesso io la trave l'andrò a settare adesso è riportato 4 cm farò una bella trave di 30 cm che scende anche 30 cm quindi basta cliccare a secondo del metodo di geometria che io sto utilizzando nel baricentro del pilastro e nel baricentro del secondo pilastro ho creato un portale ma ecco la mia ecco il mio portale anche per questa pillola penso sia tutto Omex vi da appuntamento alla prossima pillola ciao